La giunta di Barcellona Pozzo di Gotto guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò in prosecuzione di quella guidata da Roberto Materia ha riapprovato il progetto di riqualificazione del popoloso quartiere di Fondaco Nuovo con i prezzi aggiornati al 2020. L'importo complessivo è di 815 mila euro, l'intervento rientra nel master plan patto della città metropolitana e si riferisce alla riqualificazione urbana di aree degradate e utenze deboli nel quartiere di Fondaco Nuovo finalizzata al recupero e integrazione sociale e della lotta alla marginalità. L'incarico per la progettazione esecutiva risale a lontano 4 ottobre 2005 a cura dell'architetto Natale Spinella e dell'ingegnere Sebastiano Buta. Dopo la delibera di approvazione del progetto definitivo del 15 ottobre 2005 sono stati disposti svariati aggiornamenti nel 2013, nel 2015 e nel 2018 e così l'esecutivo di Palazzo Longano aveva modificato l'importo da 845 mila euro e a 815 mila euro. L'intervento è molto atteso a Barcellona perché riguarda un'area degradata che è posta territorialmente sul versante ovest della città ed in cui insistono alcune palazzine di case popolari. I residenti da anni chiedono una riqualificazione dell'arredo urbano e di tutti gli impianti. Il progetto è inserito in graduatoria all'ottavo posto del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Verranno rimessi a nuovo anche strade, parcheggi, banchine e marciapiedi.